Grazie a tutti. La religione che avverrà sabato prossimo alle 20.30 in Duomo. Quanto è importante la fede al giorno d'oggi nella società contemporanea? Intanto sono molto contento di poter ordinare sacerdote Don Vincenzo Cetrangolo e diacono Don Stefano Bucci. In quell'occasione ordino anche diacono Giuseppe Russo che è un frate minore. La religione, in particolare parlo della fede cristiana, io ritengo che sia fondamentale per le persone. Ogni persona ha una sua religiosità, ha un bisogno di religiosità perché ha bisogno di rispondere alle domande fondamentali della vita. Quindi la religiosità è una parte importante della vita di ogni persona, fondamentale. La fede in Cristo ci porta ad accogliere dei valori, una vita nuova che poi si traduce in valori di vita, in valori esistenziali che riguardano la persona, la famiglia e la società, per cui da una fede vissuta ne scaturiscono dei valori, un'etica, una morale, un comportamento. Ora noi oggi siamo preoccupatissimi perché mancano i valori. La fede in Cristo è la sorgente di valori fondamentali per l'esistenza umana. Allora capisco ancora di più quanto sia bello e prezioso il compito di questi giovani che diventano uno sacerdote, gli altri due diaconi, in attesa poi di diventare sacerdoti anche loro. Non sono soltanto persone che si donano al Signore per sempre, sono anche persone che a servizio del Signore possono portare un grandissimo contributo di elevazione etica, morale, antropologica alla società di oggi.